Sono Pierpolo Gavallo e sono felice di aver collaborato con l'azienda Gaggia per il trentesimo anniversario di Gaggia Classi. Nell'illustrazione che ho creato mi sono lasciato ispirare dai valori aziendali e dal design della macchina, una macchina manuale, quindi anche dal suo fascino. L'illustrazione è un'illustrazione che tenta di risaltare l'essenza di questo che ormai è diventato un simbolo del caffè espresso in Italia e nel mondo. Ho ideato così un acrobata, un personaggio, quindi ho fatto un parallelismo fra questo e l'ombarista, uno sul parco scenico, l'altro a casa, riescono tramite dei movimenti precisi, un esercizio e soprattutto l'equilibrio a creare qualcosa di bello, a esprimersi. L'illustrazione è un'illustrazione poetica, l'ho ideata considerando la carrozzeria della macchina, l'ho ideata tentando di fonderla senza disturbare ma soprattutto per esaltare le caratteristiche di questa. Sono contento di aver partecipato a questo progetto e di aver lavorato con il team Gaggia che ringrazio e sono ancora più contento perché questo progetto rappresenta un omaggio allo stile di vita italiano e alla cultura del caffè espresso in Italia e nel mondo. Grazie.